L'idea di questa Randstad, di questa città territorio dove vive la maggior parte della popolazione, vive e lavora la maggior parte della popolazione olandese, viene veramente vissuta come una città, uno può vivere in una città e lavorare in un'altra città, comunque è dotato di un'infrastruttura che l'ha collegata, quindi è tutto a sistema. Originariamente questa idea della Randstad, anche questa è abbastanza interessante per l'introduzione che abbiamo fatto prima, è da ricondurre alla fine degli anni venti ad opera del presidente della KLM, Plesman, il quale si rarra, sorvolando l'Olanda, vide questo territorio e ne riconobbe la potenzialità di sviluppo. In realtà le osservazioni di Plesman hanno lo stesso valore di una sorta di mito d'origine, diciamo, per questo tipo di... Si fondavano anche sui studi analitici e le mappe elaborate da alcuni cartografi del 1920, quindi c'è stata una sorta anche di lobby che ha prodotto questo tipo di realtà territoriale, che è poi emersa, esplosa, diciamo, negli anni 70. Ecco, da tenere presente, uno degli aggettivi probabilmente chiave per forse comprendere la prassi olandese e anche forse sul loro successo è la lungimiranza. Ecco, loro olandesi sono lungimiranti, preparano le cose per tempo e anche per carità, perché devono, in realtà, con la loro condizione territoriale è questa. Con l'idea di Randstad, comunque, la città e il territorio non vengono più viste come entità contrapposte, ma rappresentano un sistema urbano dove le infrastrutture diventano i principali elementi regolatori. Sistemi che superano sia la scala della città, sia spesso quella regionale. Si pensi, ad esempio, che all'interno di quest'area si muove circa l'80% degli olandesi e che vi si trovano due tra i più grandi centri di sministamento europei, e cioè il porto di Rotterdam e Schiphol, che è l'aeroporto di Amsterdam. In una simile configurazione, le città assumono una localizzazione periferica lungo il cerco descritto dalla Randstad. Il centro non è più il mercato di questa città, la chiesa, il municipio, quelli che avevamo visto dipinti da Vermeer, ma bensì il vuoto, il vuoto della grande riserva verde olandese chiamata Gruner Heart, il grande polmone verde. Il cuore verde dell'Olanda, che ha anche una dimensione, sì, un po' folcloristica, dove si vede il mulino a vendo, che è pura fiction, ma è funzionale, sistemica rispetto all'altra logica. Quindi è particolarmente complessa. Molti hanno provato a disegnarla, questa immaginale, la Randstad, ovviamente, questo centro, e soprattutto molti hanno cercato di immaginare i prossimi sviluppi della Randstad, che non è sempre più in grado di tenere, giocare un ruolo a livello globale. Quindi si è prodotta negli ultimi anni, negli ultimi decenni, partendo dal 1998, un nuovo concetto, che è quello della Delta Metropole. Una mega-mega-polis, si chiamerebbe, che mette a sistema una sorta di rete, di nodi, che mette a sistema l'area della Ruhr, fino a Lussemburgo, probabilmente avrà connessioni anche con l'Italia, quando apriranno con il Rotterdam-Novara, funzionale appunto allo sviluppo dell'infrastruttura. Anche questo è molto interessante dal punto di vista di come è stato organizzato questo tipo, perché sostanzialmente è il ruolo giocato dagli architetti in questo senso. Allora, qua dice il documento, prevede, per questa Delta Metropolis, prevede otto punti su cui si devono basare i prossimi, otto caratteristiche e otto qualificative di questa carta. Ed è interessante numerarle per vedere anche poi successivamente qual è il ruolo degli architetti in questo tipo di megaprogetti. In realtà non sono partiti solamente a livello politico queste cose, sono state recepite dal sistema politico. Sono partite da lobby, no? Diverse lobby, può essere... Non c'è una condizione negativa del termine... Oh, mi è esplosa la penna. ...del termine lobby. Allora, le otto caratteristiche di questo nuovo sistema territoriale sarà la necessità di adattare il sistema dei canali come opportunità per mettere una sorta di network, di canali per uno scopo anche recreativo. Cioè usare i canali anche a scopo recreativo. Secondo, è l'uso, l'identificazione del paesaggio agricolo come parte integrale dell'identità di questa delta metropoli. Terzo punto è la riduzione dei tempi di transport, travel time, di viaggio, di viaggio all'interno di questo schema territoriale e questo verrà sviluppato... Lo dovrò leggere un po' l'inglese perché non riesco a tradurre... ...by improving the interconnectedness of railway networks and road networks on three levels international, intrametropolitan and local. Il quattro punto è l'interconnessione di centi urbani nuovi e vecchi. E in questo modo creare allo stesso tempo una sorta di diversificazione delle opportunità di queste relazioni. quindi testare questo tipo di relazione tra le città nuove dei Finex che forse avrete visto quando siete stati in Olanda e le città più consolidate. Inoltre, questo concetto di delta metropolis ha bisogno di un'internazionalizzazione della popolazione. quindi una sorta di improving delle politiche e dei programmi di integrazione di stranieri nella società olandese. Inoltre, c'è necessario un altro dei punti sentiti come necessario l'aumento della produttività un tema che in questi giorni in Italia è abbastanza... all'interno di quest'area si identifica a quest'area come e quindi anche un superamento e un superamento dei vecchi schemi amministrativi tipo provinciali tra la scomparsa delle province del Nord Holland e del Sud Holland e dell'area di Utrecht che sostanzialmente andrebbero a sparire a perdere competenze. Ecco, questo in realtà ed è poi una sustaining Dutch civic culture abbastanza banale come... Ecco, in realtà questi sono i... Oh, grazie. Questi sono i grandi temi che stanno a monte di tutte le questioni. Questa proliferazione che è una proliferazione in realtà è un programma non è stato recepito a livello politico però si deve sviluppare. Questo in realtà genera anche una serie di un'articolazione di relazioni in cui anche l'architetto si inserisce in maniera assolutamente diversa. No? Anche a... Trovando degli spazi anche nuovi potenzialmente in questo tipo di relazioni. No? Non studiati. E questo viene recepito sia a livello accademico della ricerca universitaria finanziata da questi... da varie lobby, diciamo. Puoi essere politiche se il finanziamento è diretto oppure anche privati. Ecco. e anche interdipartimentali ma anche a livello professionale. La relazione tra l'intervento professionale e il rapporto a quello universitario ovviamente non è lo stesso. e non ha esiti simili però per certi aspetti è molto sorprendente perché molte volte l'università si trova a recepire questioni nate dall'imprenditoria dello studio che non è più l'idea dello studio come siamo abituati a recepire. però lavora in un contesto completamente diverso insomma che vorrei concludere su questa cosa. Ecco. E questo continuo ridisegno è stato anche motivo di un concorso di un invito un concorso di inviti da parte del governo olandese per cercare di darne forma di una sorta di vision come potrebbe essere. Uno dei più interessanti è stato quello di Snozi che ha disegnato quel cerchio come realtà fissa dove si ancorano tutte le realtà urbane olandesi. Mentre questo che dà la priorità alla Schiphol è quello elaborato da OMA in collaborazione con One Architect che anche questo è stato bastante discusso come questione.